Come un vostro pacchetto di sigarette. Armonia Cosmica, Franco Lanari, terzo volume, ore 19.15. Sono un'entità diversa che vi saluta. Mi chiamo AXA. Vorrei che mi facesse delle domande perché io non vengo a chiedere aiuto. Vengo da una stella lontana e sono qui per comunicare con voi. Mirella, AXA, da chi sei stata chiamata? AXA, sono venuta e richiamata da una richiesta da parte vostra. Probabilmente... Cosa mi volete chiedere? Sono a vostra disposizione, ma non per molto. Mirella, quali sono le tue caratteristiche? AXA, siamo entità bianche e viviamo nella pace. Intorno a noi non c'è molta varietà come nel vostro mondo, ma sperimentiamo una pace immensa. La nostra condizione è però transitoria come la vostra e dunque destinata a finire. Franco, da quando sei in contatto con la Terra? AXA, io non ho memoria, però adesso che vibro con voi mi sento molto vicino a quello che provate voi. Franco, ma cosa senti effettivamente in ciò che noi proviamo? AXA, lo capisco, che un po' lo invidio, anche o meglio, non so la parola, perché non si tratta di invidia, ma di desiderio, cioè fare un'esperienza come la vostra sulla Terra, solo perché in tutte quelle varietà mi sembra che si possa accedere ad una conoscenza maggiore. Non dovete pensare che la nostra pace sia un punto di arrivo. Se volete posso fare anch'io delle domande. Franco, perché no? Falle pure, grazie. AXA, chi vi dà la certezza che fuori dalla Terra ci siano situazioni più evolute? Franco, io personalmente sono sicuro che ci sono altre creature, altre razze, molto evolute, più della nostra, qui sulla Terra. AXA, non credo di essere superiore a voi solo perché noi viviamo nella pace e nella luce bianca. Franco, da quello che sento dire da te siete creature create da Dio per migliorare la vostra evoluzione, comunicando anche con la nostra civiltà. Ecco perché sei qui stasera con noi? AXA, ho sentito un richiamo, ma anche voi potete, se volete, ascoltare i nostri richiami, comunicare con noi, venire da noi con il vostro spirito. Siamo molto vicini, basta un pensiero per unirci. Cercate prima di farci visita, venite con il vostro spirito a raccontarci della fortuna vostra di avere esperienze così diverse, anche se a volte dolorose. Franco, è meraviglioso ciò che dici, AXA, creatura di luce, ciò che ci proponi. AXA, dici qualcosa di più della tua gente, AXA, la nostra esistenza è serena, ma piatta, e la luce ci fa evolvere, ma ci fa rimanere qui. Franco, in quale costellazione ti trovi, AXA? AXA, io mi trovo, come voi, nella nostra galassia, ma in una zona più centrale. la luce è più forte qui, ma Dio è ugualmente lontano da noi. Siamo distanti, ma non troppo. Se prendete una riga e andate un po' più all'interno della galassia, noi siamo lì, prima del centro, poco prima. il nostro sole, noi lo chiamiamo OST. Franco, cerco di capire, AXA, la differenza che c'è tra noi e voi. AXA, siamo come voi, ma stiamo vivendo l'esperienza della pace. Non siamo tutti uguali, viviamo in pace, ma non so se siamo saggi. Franco, ma chi ti ha mandato qui stasera per dialogare con noi? AXA, nessuno mi ha mandato, sono venuta per mia iniziativa, perché ho sentito telepaticamente un richiamo forte. Franco, ma come possiamo fare per continuare a comunicare con voi? AXA, provate ad ascoltarci, provate a vederci, e tra noi comunicheremo. Ma non devo essere io a venire a scrivere da voi, vi invito a venire qui e comunicare con i nostri mezzi che sono fatti non di penna, ma di raggi luminosi, come dei laser da voi, ma più pratici. Noi scriviamo così e poi questa luce si fissa su delle macchinette un po' come dei vostri computer che ci restituiscono quello che è stato scritto. solo che queste macchinette sono come un vostro pacchetto di sigarette. Ciao.